E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Minecrafti da quarta stagione Lasciate un po' in... di sparte, la quarta stagione poverina non l'abbiamo... E' un po' che non giocavamo su questo mondo, in primis cosa fondamentale da fare Andiamo a dormire perché si sta facendo notte, hop E ragazzi il progetto di oggi è davvero una figata allucinante, è veramente veramente figo E' abbastanza semplice il meccanismo che andiamo a creare, è soltanto questione di tempistica Ma fidatevi che è una cosa estremamente, ma dico estremamente figa Adesso state a guardare che cosa ci andiamo a creare adesso tutto il casino totale che si apre e chiude e tutto il resto Grazie E cosa ci servirà? Beh intanto ci servirà la parte fondamentale del progetto, ovvero le fire charge Ma fireball... ok no, quelle pitbull sono le fireball E noi ci servono le fire charge che si craftano nel seguente modo Pado carbone, poi 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 gampà Oh no, abbiamo la farm, giusto E poi non contenti... blazerod, ok Blazerod così sono sei Cazzo poca roba Davvero poca roba abbiamo Dovrei andare un po' nel nether a massacrare qualche carissimo amico blazer Però vabbè ok, provvederemo in seguito Dobbiamo andare a prenderci la gunpowder Dato che ne abbiamo molto molto poca Qua penocci Cazzo non funziona più come una volta Stack così, così e così Ce ne danno tre, ne abbiamo fatte diciotto Diciotto diviso tre fa sei Quindi abbiamo sei colpi Sei colpi vi farò vedere perché Adesso andiamo a prendere il necessario per il meccanismo Ovvero che cosa ci serve? Ci serviranno degli slimeball, dei pistoni repeater E un sistema di clock, nulla di particolare Quindi tre dispenser per il lancio Tre slimeblock Redstone Redstone repeater Un sticky piston Signori miei non c'è nient'altro che ci possa servire Almeno questa roba qua, ok perfetto Volevo prendere anche velocemente dei materiali a costruzione Mi servono delle fornaci? Sì sì, ci servono delle fornaci Infatti le andiamo a prendere e ad utilizzare subito Ok perfetto, sono undi, perfetto, meraviglioso Tac, qua Iniziamo Questo sarà il nostro banco da lavoro Che è un po' sopraelevato Però funzionerà bene sicuramente Allora io direi di fare, di partire da qua Lanciarle qui Successivamente andremo a mettere qua Il nostro caro pistone Qui in questa maniera Forse un po' più basso Perché scusate No, è giusto È giusto così È giusto così esatto Qui dobbiamo però togliere il tutto Dobbiamo fare un bel lavoretto di manutenzione Nel senso Anche qua andiamo a mettere Questi li dobbiamo togliere E dobbiamo togliere anche quest'altri Perché qua poi ci andremo a mettere le fornaci Questi vanno messi così Uno, due Così Perfetto Questo lo leviamo per questioni di comodità Non so se magari potrebbe andare a interferire Non credo Però lo leviamo per questioni di comodità Come vi dicevo Poi andiamo a mettere questo qua Così Spero Non credo mi bastino Probabilmente non mi basteranno Ma Fottese che le andiamo a rifare Per una Porca miseria Peccato Per una Non mi bastano In tutti i casi Prendo questa E continuiamo il meccanismo Completato Messo il tutto Va bene Ripartiamo adesso Ripartiamo come Ripartiamo come qua Levando questi E mettendo dei blocchi Porca miseria Non mi scordo le cose Proprio in maniera incredibile Dobbiamo prendere Gli stone brick Perché ci serviranno Sicuramente Per dare Ecco il fatto Questi sono mezzi I blocchi Ogni tanto i blocchi interi servono Ok andiamo a togliere anche questi Magari E poi ci andiamo a riprendere Gli slabini Perché poi Servirà Allungare il tutto Qua ci serviranno delle torce Sicuramente Sarebbe il caso Di mettercele Infatti lo andremo Probabilmente a fare Ora Devo fare una roba del genere Così Questo è un lanciatore di meteore Più o meno In linea di massima E fidatevi che è una figata allucinante Poi vado Nel nether Anche devo massacrare qualche blade Per prendermi più Per poter fare più fire charge Le avevamo fatte Se non vi ricordate Se vi ricordate bene Peccato che poi Abbiamo sprecato Tutta la blade powder E non ne avevamo più Per questo progetto In tutti i casi Dall'attivazione Possiamo attivarlo Per ora Con un bottone O con una leva Quello che volete Anche con un blocco di redstone Non è un problema Lo attiveremo proprio Con un blocco di redstone In linea di massima Qua dovremo andare a fare Una cosa del genere Così Facciamo così e così Giusto per renderlo simmetrico Che è più carino Poi andiamo a fare Una roba del genere Scendere Ok Così E così Vediamo Che viene fuori Non lo so Da qui scendiamo Perché io faccio ste cose Non lo so Possiamo poi scendere Di qua Così E portare questo Al pistone Di farlo risalire E poi ci serve Soltanto il nostro Repeater Con ritardo 4 E poi ne mettiamo un altro Con ritardo 2 Ci proviamo Un ritardo 1 Non so se funzionerà Dobbiamo provarlo Il ritardo Non lo sa Non sono proprio convintissimo Non mi ricordo bene Quanto ritardo abbia Comunque In linea di massima Andiamo a mettere Una fireball Ci proviamo soltanto Con una Vediamo se funziona Andiamoci a mettere Il blocco di redstone L'attivazione Vediamo Bim No È poco Cazzo Ho sprecato una fireball Va bene Ho messo a posto tutto Il problema era soltanto Il ritardo Adesso ho messo il bottone qua E proviamo se funziona No Cazzo Perché non funzionano Si alza troppo tardi Si alza troppo tardi Il coso No Errore grave Errore gravissimo Ok Adesso Probabilmente funziona Così Sei Eccolo qua Meteore che Vengono lanciate E vanno a finire Non si sa dove Vanno molto molto lontano Con questo sistema di lancio Davvero davvero lontanissimo Una figata allucinante Che figo È fantastico Se ci mettete un clock Più o meno lungo E riusciamo a fare Tante fireball Davvero vedrete Un effetto molto molto figo Di meteore Che vengono lanciate Poi più ne mettete E più l'effetto è figo È passato diverso tempo Dall'ultima clip Ho ucciso diversi Mob Diversi blades Non è difficile E più che altro Adesso siamo pronti Per andare a Collegare il tutto Ho fatto questo clock Molto molto veloce No non è veloce Scherzo È abbastanza lento In verità Come clock Però dà soltanto un tick Questo va Si può settare Addirittura il tick Che deve dare Quindi è carino Mi piace Ci siamo? Bam Vai Adesso inizierà a dargli Perché non funzioni Domanda se io gli metto Questo qui Perché non funzioni Perché cazzo Non funzioni Scusa Il mio pistone Non mi va Non mi funziona più il pistone Dai è ridicolo Perché non funzioni Cazzo Qual è il tuo problema? Se faccio così? Ah Ok allora dovrebbe funzionare Perché non lo fai Ah perché forse è troppo È troppo corto il segnale redstone Dai Sì è troppo corto il segnale redstone Va allungato Cazzo Ok adesso è più lungo Quindi sicuramente lo prenderà Peccato Ho sprecato un po' di roba Non è un problema di certo Però vediamo No non lo Ragazzi non lo va a prendere Ma perché cazzo Non lo vai a prendere? Porca miseria Scusa Se io faccio una roba del genere Vabbè ok Te lo collego così No non c'è verso Di farlo funzionare Non passa il segnale Non va qua Ah è troppo Forse è troppo corto il segnale Non credo Boia vacca Sembra strano Cioè si interrompe così presto Mettiamo un repeater qua E uno qua Cazzo adesso se non funzioni Deve funzionare per forza Oggettivamente Ok adesso Sì Va bene C'è un piccolo Questione di ritardo Quindi si alza troppo Tardi Si alza troppo tardi Scusate va su E sono passate Quindi si si alza troppo tardi Mettiamo magari questo a tre E proviamo La questa Cazzo non me lo ricordavo Così complicato L'avevo fatto più semplice io Sì eccolo qua Perfetto Cazzo è presa a fuoco la casa Cazzo cazzo Con le meteore Sarà sicuramente preso fuoco qualcosa Stacca tutto Spegni spegni veloce Spegni veloce Porca miseria Mi è presa a fuoco Cazzo Buono buono Dai 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 Va bene Ok non è stato Oh ma ti spegni Buono vado a spegnere Ok mi sono spento Anch'io Dai pensavo peggio Quando ho visto le fiamme Mi è preso Un colpo allucinante Però porca miseria È presa a fuoco la casa È dovuto probabilmente A una fireball Che ha colpito Involontariamente Cioè Sicuramente non voluto da me E adesso si alza Ma non si può alzare Non funziona Neanche il mic Ah quello ha abbassato Adesso si dovrebbe alzare Giusto Adesso dovrebbe arrivare La botta verso l'alto E infatti eccola qua Perfetto No dicevo che purtroppo Non si E non Avevo una fireball Dicevo ha colpito Sicuramente Questa staccionata E poi sarà presa fuoco E da lì poi Mi è divampato l'incendio Sulla staccionata Sul cancello di casa Nulla di preoccupante Però porca miseria Se non mi accorgevo davvero Prendeva a fuoco Tutta la casa E poteva essere Molto preoccupante Stavo tentando Di trovare un design Interessante Per quanto riguarda Questa Questi dispenser E questo lanciatore Diciamo di meteore Per la cosa Per le frecce Però non sembra funzionare Abbastanza complicato Il meccanismo Altriotto Per il pollo Funziona Una cosa allucinante Sta Sta farm di pollo E' davvero efficientissima Casa un sacco E non funziona Peccato Ci ho provato L'abbiamo provato In tanti modi Mettilo qua così Ritarda uno in più Lo ridividiamo Ma non funziona Guardate Ci ho provato E Te li lancia In vari modi Non va Gran che bene Guardate eh Vedete Se fai così Te lo lancia E poi Eh una roba del genere Ma è carino però Così E' un grande numero Di frecce Qua sopra Figo Bello Invece mi piace Invece mi piace Invece mi piace Beh Bellino E' bellino Davvero è discreto Discretamente interessante Potremmo anche tenerlo così Va un rumore Se voglia Ma è carino Mi piace Bello Approvato Me lo ha provate Me lo ha provate Questo sistema così Di lancio frecce Mi piace Mi piace Mi piace Che poi non ricadono Sono abbastanza simmetriche Quando ricadono Non c'è tanta margine D'errore Se io passo qua sotto Muoglio male Guardate No neanche tanto Dai pensavo peggio Bello Mi piace Mi piace Mi piace Bello Carino Bello Mettiamo il ritardo A meno Perché se no Per l'altra funzione Non funziona E va bene E noi lo terremo così Terremo questo lanciatore Di frecce automatico In tutti i casi Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video è piaciuto Di iscrivervi al canale Se avete già fatto Di condividere il video su Facebook Per farmi piacere le persone E noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi